Siamo con l'assessore Marco Sacchetti, allora questa novità di oggi annunciata dal sindaco Ghinelli è intanto così, tanto per iniziare senza polemiche, è un po' una marcia indietro? Ma è una marcia indietro per certi aspetti sì, ma è anche la presa d'atto che questo tipo di iniziativa che ricordo la Giunta prevedeva insieme ad altre iniziative volte al contenimento dei consumi energetici erano di tipo sperimentale, appunto come tutte le sperimentazioni poi i feedback che se ne ricava poi possano essere, come dire, supportare poi delle scelte diverse, quindi abbiamo avuto in questi giorni numerose segnalazioni da parte di cittadini, imprese, operatori di servizi pubblici che appunto manifestavano determinati tipi di problemi, di disagi, per cui è stato ritenuto che questa sperimentazione al momento terminasse. C'è anche il periodo natalizio in cui salvicina, quindi c'è più movimento e anche il periodo dell'anno che ovviamente è più buio, perché poi dopo, da gennaio, tra le giornate inizieranno a essere più lunghe, quindi anche l'effetto poi si potrà in qualche modo rivalutare come ritervenire nel caso. Ma questa è stata una scelta dettata un po' dalle condizioni del cotto. Ecco allora, intanto vorremmo capire se è stata una scelta che effettivamente ha determinato un risparmio e leggendo un po' tra le righe di quello che dice lei adesso, è un qualcosa che è una sospensiva, diciamo, di questa decisione o comunque tornerà tutto come prima e non tornerete, insomma, su questa decisione? Questo ora non lo possiamo dire. Al momento è una sospensiva. È una sospensiva per le motivazioni che ho detto e poi sono anche declarate in una delibera, insomma, che nasce appunto, come ho detto, da questo riscontro che abbiamo avuto sui nostri cittadini. La razio della delibera che prevedeva, oltre, diciamo, la riduzione dei tempi di illuminazione della pubblica illuminazione, prevedeva anche altri tipi di interventi che riguardavano prevalentemente, se non è una cosa esclusivamente, diciamo, la struttura interna della pubblica del comune, quindi gli edifici del comune, quindi per quanto riguarda l'energia elettrica e il calore, quei dispositivi rimangono validi. La razza del provvedimento era, come dire, volta a ottenere dei risparmi sui costi energetici. Il ragione del fatto che questi comunque hanno lasciato dei segni importanti, pesanti, già nel bilancio di quest'anno e lo saranno sicuramente anche per l'anno prossimo, perché comunque, diciamo, le previsioni non sono così... Ora, guardare, c'è nel periodo natalizio che l'energia ultimamente è costata, è ritornata a livelli più accettabili, però lo tsunami, come ho detto io, non è finito, anzi, e quindi vedremo poi le dinamiche, cioè, l'eventuale riattivazione potrà dipendere da molti fattori, anche da come andrà il costo dell'energia, perché poi il ragionamento è sempre quello. Questi risparmi erano dati anche da necessità di bilancio, ma era anche un segno che noi volevamo dare di supporto, di solidarietà a chi è che ultimamente, come dire, supporta questa situazione di caro energia, perché ci sono imprese, commercianti, famiglie che stanno soffrendo, quindi l'iniziativa aveva questa logica, cioè che anche la pubblica amministrazione in qualche modo partecipa a questo momento di disagio e di sofferenza che c'è. Nasce su questo, il principio secondo me è ancora valido, poi è chiaro che un amministratore deve anche trarre delle conclusioni sulla base di quelle delle risposte che danno ai propri cittadini. Sì, anche perché, e questo lo ha già detto lei all'inizio, insomma dal punto di vista proprio anche del commercio, forse sicuramente il segnale di una spending review c'era, ma c'era anche però di contro, insomma, un disagio importante che vivevano anche proprio le attività economiche per via di questo dispositivo. Va bene, quindi insomma abbiamo capito che è soltanto una sospensione, ma non ha risposto alla domanda sul fatto che, o quanto perlomeno sia quantificabile, se c'era davvero o no un risparmio proprio economico dell'ente, o non siete stati ancora in grado di capirlo, magari. Il risparmio economico, qui tenderei anche a dare dei chiarimenti, perché sul web, sulla stampa, sono apparse, come dire, tante notizie sono in qualche modo prive di fondamento. È ovvio che il servizio di illuminazione pubblica è in mano a un concessionario, che è un gestore capito in una gara pubblica e gestisce il funzionamento della pubblica illuminazione. Questa gara non prevede ovviamente che i costi energetici siano a carico del concessionario, cioè le variazioni del costo energetico siano a carico, perché qualcuno sosteneva, dice ma siamo sui dei risparmi, perché se l'energia elettrica aumenta, le strafosse se le sostiene il concessionario. Assurdo, follia anche perché il giorno dopo potrebbe richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità per causa di forze maggiori, è un classio dei contratti questo, no? Cioè se mi piova, andate a uno tsunami, non è che posso, perché ho firmato un contratto lo posso sostenere, quindi non è così. I risparmi stimati sulle due ore di non accensione erano stimati per il 2023 intorno a 300.000 euro. È chiaro, i risparmi dipendono molto dal costo dell'energia, il costo dell'energia viene rivalutato nel contratto che abbiamo ogni tre mesi, quindi i conti le potremmo usare solo a consultivo, quindi il consultivo 2003. Si era fatta una previsione perché nei bilanci della pubblica amministrazione bisogna accantonare delle somme previsionali e poi dopo fare i conti finali. Lo scenario non è bene, riguarda il concetto, quindi la paura e il rischio è quello che poi se la situazione da un punto di vista dell'approgenamento di gas metano per il sistema paese dovesse in qualche modo andare in sofferenza che poi vengano prese delle iniziative dall'alto di taglio. Va bene, va bene, insomma staremo a vedere davvero l'ultima domanda. Ecco, proprio in questo scenario dal punto di vista dell'efficientamento energetico immagino che starete facendo i vostri passi. Sì, allora, sul tema specifico della pubblica illuminazione nel contratto con il gestore dei servizi pubblica illuminazione era previsto e è previsto la sostituzione di tutte le vecchie armature, corpi illuminanti, con i nuovi corpi illuminanti a LED e quindi vedo ovviamente è un grosso risparmio, un grosso contenimento anche dei consumi. Questo al di là dei costi è un qualcosa che va verso la sostenibilità, verso l'ambiente e quindi tutti bisogna agire in tal senso. Poi sul patrimonio immobiliare, il patrimonio edilizio, in particolar modo le scuole, è stato fatto tanto negli anni perché comunque sono stati fatti grazie a dei finanziamenti anche nazionali degli interventi di efficientamento energetico, quindi la sostituzione delle caldaie con pompe di calore, la sostituzione degli infissi, in qualche caso intiante fotovoltaici eccetera eccetera eccetera. Sul patrimonio edilizio storico si fa poco, cioè perlomeno lì gli interventi sono più complessi, quindi il problema lì diciamo rimane. Però insomma su questo stiamo lavorando alla sostituzione di una comunità energetica in cui il comune diventa parte attiva, promotrice e anche questo è tutto nell'ottima ovviamente non tanto di ridurre i consumi ma quello di avere approvvigionamento da fonti rinnovabili senza dipendere dai gas della Russia. Certo, tra l'altro su questo argomento so che c'è stato un passaggio anche un po' bi-partisan in Consiglio Comunale, sbaglio? Che cosa? Cioè era stata una proposta tra l'altro da parte della minoranza che poi era stata accolta Sì, la proposta della minoranza, cioè sì, raccolta nel senso ci stavamo lavorando non è che abbiamo raccolto, nel senso è ovvio, cioè sulle comunità energetiche se ne parla tantissimo, è sulla bocca di tutti, è il tema dei temi rinnovabili, poi dopo direi fare c'è sempre di mezzo in mare, come si dice in Toscana o Firenze, però ecco e quindi stiamo lavorando per cercare di mettere a terra questi progetti, queste idee, siamo a un buon punto, penso a fine anno forse si riuscirà a presentarlo alla stampa la nostra idea di comunità energetica, sì, è sicuramente la risposta a breve che il sistema paese ha in carezzo, quindi può dare, ecco, a cercare di avere approvvigionamenti energetici da fonti rinnovabili. Benissimo, benissimo, sicuramente andremo avanti ancora tanto con l'assessore, ma insomma ci sarà modo magari di ritrovarsi e di allargare il tema, anche secondo me l'impianto, se non sbaglio, se non ho capito male, in questo l'impianto di Sanzena, insomma che è sicuramente strategico in tutto questo disegno, per adesso la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.